Micro Machine Distendetevi sulla macchina, con le caviglie posizionate sotto il cuscinetto. Posizionatevi in maniera tale, da avere le gambe leggermente flesse. Questo permetterà di mantenere in tensione costante i muscoli femorali, durante l'intero esercizio. Flettete le ginocchia, fermandole prima che le gambe, assumano una posizione verticale. Fate attenzione che le piastre di peso utilizzate, non si posino mai sulle restanti. Grazie a tutti.